Sono Giorgio Vergano, referente del Care Levers Network Piemonte, promosso dall'Associazione Agevolando. Agevolando nasce a Bologna nel 2010 a sostegno di Care Levers, ovvero ragazzi e ragazze che hanno vissuto per un periodo della loro vita al di fuori della propria famiglia di origine e che sono in uscita da percorsi di tutela minorile. Il Care Levers Network promuove insieme ai Care Levers percorsi di partecipazione e di cittadinanza attiva. Attraverso percorsi di focus group vengono raccolte le stanze e le raccomandazioni dei ragazzi e delle ragazze che partecipano al Care Levers Network che poi vengono portate in momenti conferenziali, in formazioni universitarie e in formazioni per professionisti che si occupano di tutela minorile. Agevolando il Care Levers Network partecipano attivamente come partner all'interno del progetto Children Digicore. Per questo abbiamo raccolto le stanze e i punti di vista di 20 ragazzi provenienti dal Piemonte che poi sono andati a costruire un punto di vista comune che diventeranno la base strutturale sulla quale verrà costruita l'app Children Digicore. Sono Stefano Marra, Care Levers Senior dell'Associazione Agevolando e referente Care Levers del progetto Children Digicore. Oggi vi parlerò dei focus group che abbiamo svolto noi ragazzi e all'interno dei quali abbiamo sviluppato tematiche a noi care che riteniamo fondamentali proprio per supportare lo sviluppo dell'applicazione. Alcune caratteristiche fondamentali che il gruppo ha individuato sono state la necessità di avere un canale multilingua, di avere una sezione FAQ all'interno della quale vengano date le informazioni necessarie ai ragazzi e soprattutto la necessità di maggiore celerità nella ricezione e nella risposta alle istanze portate avanti dai ragazzi.